Francesco Amirasola, campione italiano juniors di braccio di ferro. Com'è stata questa vittoria? Allora, devo dire inaspettata, soprattutto perché ho iniziato per gioco. Poi da lì si è creata la passione fino ad arrivare a questi risultati. Quali saranno i tuoi prossimi impegni? Il mio prossimo obiettivo sarebbe quello di riuscire a fare un podio a un internazionale e magari un giorno sognando a un mondiale. Un messaggio per convincere i tuoi colleghi, i ragazzi, a praticare braccio di ferro. Innanzitutto vi aspetto qui allo sport show al Conca d'Oro. Siamo aperti oggi e domani a fare dimostrazioni gratuite a tutti. E domenica ci sarà una vera e propria gara atta proprio a chi voglia conoscere questa disciplina e a gareggiare una prima volta. Con la federazione, quanti campionati, se ci sono campionati in Sicilia? Allora, la federazione organizza gare in tutta Italia, ovviamente affiliandosi per le gare estere alla federazione mondiale UAF. Mentre invece quella italiana è la SBFI. Il presidente è Claudio Rizza, i campionati nazionali si tengono a Monsano, solitamente verso maggio e giugno. Tutte le informazioni sul sito SBFI. Viva il braccio di ferro! E viva tutto lo sport in generale! E anche Olivia! E soprattutto!